Il Consiglio si è riunito per il Question Time. Il Consiglio regionale della Campania, preseduto dalla Vicepresidente Valeria Ciarambino, si è riunito per il Question Time. Sono state discusse le seguenti interrogazioni. Blocco delle prestazioni in convenzione per i centri accreditati di analisi biochimico-cliniche e per i centri di diagnostica per immagini, ad iniziativa del Consigliere di Italia Viva, Francesco Jovino, salvaguardia del Santuario dell'Annunziata di Giuliano in Campania, ad iniziativa del Consigliere di Campania Libera, Giovanni Porcelli, Vertenza, Regione Campania, Società Giano per la gestione dello Stadio Collana di Napoli, della Consigliera del Movimento 5 Stelle, Maria Muscarà, Bando per la localizzazione di impianti industriali di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani di tipo aerobico nel comune di Chianche, del Consigliere Livio Petitto del gruppo Misto. Chiarimenti urgenti circa il bio di gestore di Caserta, del capogruppo della Lega Giampiero Zizzi. A rispondere alle interrogazioni, gli assessori regionali al lavoro e all'ambiente, Antonio Marchiello e Fulvio Bonavitacola. Grazie a tutti.